è un'emergenza di odore no scherzo scherzo no ma beh magari sai no in quelle giornate un po' estive quando vai in giro per gli ipermercati ogni tanto prendi quella corsia dove entri e c'è un po' di effetto sterminio cipollò un po' cipollò e soprattutto e questo è un messaggio che vorrei mandare alle grosse catene di distribuzione facciamo la giornata nazionale del deodorante a un euro potrebbe essere un diego potrebbe essere un'idea non può costare 4 euro il deodorante perché poi la gente non lo compra non lo usa senti pipì stai andando ancora lo faccio sempre